Isola dei famosi, il reality show che ogni anno porta un gruppo di concorrenti su un'isola deserta per mettere alla prova le loro capacità di adattamento e resistenza, quest'anno sembra essere diventato il palcoscenico di una tenera storia d'amore. Due naufraghi Arthur Dainese e Cadi Guai, infatti, stanno mostrando una crescente complicità e vicinanza, tanto da far parlare di un possibile flirt. Primi segnali di un'attrazione. Il legame tra Arthur e Cadi, è nato pian piano, tra una prova e l'altra, e si è rafforzato durante le lunghe giornate trascorse insieme sull'isola. Due modelli, entrambi giovani e affascinanti, sembrano aver trovato nell'altro una fonte di conforto e sostegno in un contesto così difficile e impegnativo. Nel trascorrere degli ultimi giorni, Arthur e Cadi, hanno trascorso molto tempo insieme, godendosi anche il tramonto mozzafiato su Caio Cochinos. La loro intesa è sempre più evidente, e i due naufraghi sembrano ormai inseparabili. Un disturbo gradito alle concorrenti. La loro vicinanza è diventata così evidente che ha persino interrotto il riposo di alcune concorrenti, come Valentina Vezzali, e Alvina Verecondi Scortecci. Arthur e Cadi, infatti, hanno chiesto alle due donne di spostarsi per poter fare un sonnellino pomeridiano insieme. Nonostante il disturbo, la richiesta dei due naufraghi è stata accolta con un sorriso dalle concorrenti, che hanno capito l'attrazione tra Arthur e Cadi, e hanno deciso di lasciare loro lo spazio per un momento di intimità. La possibile relazione di Arthur fuori dall'isola. Nonostante l'apparente feeling tra Arthur e Cadi, alcuni rumors circolano sull'esistenza di una donna nella vita di Arthur fuori dall'isola. Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip di Yanira Marzano, infatti, Dainese avrebbe lasciato in sospeso una relazione prima di entrare a far parte del cast dell'isola. Al momento, però, non ci sono conferme sulla veridicità di questa notizia. Naufraghi continuano la loro avventura sull'isola, tra prove, difficoltà e momenti di svago, e chissà se l'attrazione tra Arthur e Cadi, continuerà a crescere o se resterà solo un'amicizia.